Buona la prima dell'evento che punta a valorizzare il Borgo Antico di Padula e allo stesso tempo i tanti talenti musicali del territorio. Seconda edizione di Borgo Live promossa da Centro Musica Store con il patrocinio della Regione Campania e del Comune di Padula per portare a vivere il centro storico tra musica, divertimento e artisti, tra giovani talenti emergenti e star. Sette aree di soste in incantevoli punti del centro storico padulese dove poter trovare squisite pietanze di rigorosa tradizione padulese e valdianese con ingredienti del territorio e degustando le specialità preferite ascoltando ottima musica. Un percorso gastronomico e musicale che nella prima serata ha raccolto un grande successo mettendo infatti il risalto scorci del Comune affascinanti e meritevoli di essere ammirati. Partiti un po' per gioco lo scorso anno, Borgo Live continua sempre più a raccogliere interessi e consensi proprio per la capacità di mettere insieme le eccellenze valdianesi e capace di evidenziare le peculiarità di un territorio che ha tanto da dare. Questa sera, giovedì 3 agosto, ultima occasione per poter partecipare all'evento tra passeggiate suggestive, gusto speciale, musiche ed artisti che insieme ai visitatori dell'evento attraverseranno il centro storico toccando gli spazi di San Clemente, Municipio, Museo della Pietra, Sant'Angelo, San Pietro, San Nicola e Santa Croce e in ciascuna stazione degustare specialità diverse preparate dalle aziende agrituristiche del territorio. Nel corso della passeggiata sarà anche possibile visitare i luoghi di maggior interesse storico-culturale di Padula in particolare le chiese ma anche i musei che per l'occasione saranno aperti al pubblico. Questa sera, ospite di Carmine Morena e Laura Di Salvatore, ci sarà l'unico sosia riconosciuto di Malgioglio.